C'è massima attenzione a Roma come a Milano, credo e temo anch'io da quello che si legge sui messaggi internet che lancia l'ISIS che Roma è più sottotiro. Il sindaco ieri ha detto che è Roma la città sottotiro, Milano dovrebbe stare più tranquilla. Io credo che sia più Milano perché è quella più attiva economicamente, però certo Roma è un centro del tutto particolare. Io a Roma la conosco ma non è che ci viva o ci vada spesso. La milanese è preoccupata? Per ora no. In questo momento Roma la vedo veramente complicata. L'Expo è stato un obiettivo, è finita, adesso l'obiettivo potrebbe essere, speriamo di no, il giubileo, quindi Roma più di Milano. Siamo tutti sul stesso piano secondo me. E a livello terroristico adesso che arriva il giubileo? Siamo terroristico ma non lo so, queste qua sono cose populistiche che a me mi fanno ridere, guarda. Lei si sente al sicuro in questa città? Ma io mi sento al sicuro, ma può succedere, cioè sono in casa. Ma guardi, non so, si è preoccupati, però io ho più paura per Roma più che per Milano. Quindi diciamo è d'accordo un po' col sindaco che dice che Roma è quella sottotiro piuttosto che Milano? Ma sì penso. Roma-Milano, qual è la città più sicura? Milano. Perché? Perché c'è un sacco di polizia. Milano. Perché? Beh da vedere, no? Io sono di Roma, sono un po' di parte, però penso Milano. Milano più controllata? Oddio, polizia pure a Roma ne passa in centro e tutto, però... Milano. Milano? Sì. Perché? La vedo più protetta e vedo un maggiore controllo, anche più ordinata, quindi già dove c'è ordine mi dà il senso di sicurezza. Il terrorismo, il giubileo fa più paura a Roma, Milano l'ha già scampata con l'expo, ti aspettavi qualche cosa, qualche altro terrorista? No, secondo me non me l'aspettavo perché sono manifestazioni troppo controllate, non credo che al momento riescano a organizzare una cosa simile. Poi se tu nella popolazione crei delle disparità enormi, purtroppo uno no, due no, tre no, il quarto gli dici, vieni inquadrato, poi se sei ignorante ti dicono porta la bombetta e loro ce la portano. C'è caduto a Parigi, secondo voi può capitare ovunque? Sì, purtroppo sì. Ti sento sicuro comunque in questa città? Abbastanza, sì. Speriamo, speriamo. Salve. Milano senza almeno. Perché? Milano. Perché si sta meglio. Perché è più regolata, è più... Ordinata. Ordinata. Quindi alla luce di quello che si è caduto a Parigi, secondo voi può accadere anche a Milano? No, può accadere dappertutto. Milano-Roma, la più pericolosa qual è? No, penso uguale. Penso purtroppo uguale. Siamo ormai in guerra.